Ma è un riconoscimento a un grande pesarese, intanto un grande amante della nostra città, è un esempio soprattutto per questi ragazzi. Al di là dei premi che ha ottenuto in una disciplina molto complicata, in una condizione fisica nella quale con difficoltà ogni giorno riesce a stare in piedi in equilibrio, è un esempio di vita perché ogni giorno trova la forza per fare un passo avanti, per ottenere un risultato sportivo in più, ma soprattutto ogni volta con la sua forza contagiosa di vivere aiuta tante altre persone, soprattutto chi ha l'onore di essere suo amico e ad andare avanti con determinazione. Siamo contenti di aver scelto questo luogo perché questo è il luogo della premiazione degli sportivi, tutti i pesaresi sanno che qui si fanno le feste sportive quando c'è qualche successo delle nostre squadre o delle squadre nazionali e quindi ci tenevamo a questo riconoscimento, le tante persone che ci sono dimostrano l'affetto nei confronti di Marco e come durante la sua vita, prima e dopo l'incidente che ha avuto, ha costruito rapporti di amicizia che oggi lo rendono davvero unico. Quindi forza Manzini e ragazzi, tutti coloro che fanno sport e non solo coloro che fanno sport, non abbattetevi davanti alle difficoltà e se avete qualche dubbio andate a parlare con Marco. Emozioni molti perché ho visto molta gente che mi vuole bene e per me è molto meglio che vincere una medalla, vedere la gente che mi stima.